Con nota datata 1 aprile 2022, a firma del dirigente medico dell'ASP, Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Calabria, sono stati interessati le istituzioni destinatari della segnalazione dell'Ancadic, tra cui i competenti ministeri, Vincenzo Crea, referente unico dell'Ancadic, responsabile del comitato spontaneo Torrento Liveto. Lo stesso dirigente ha proceduto ad effettuare il campionamento di tale acqua e quella dello scarico del depuratore di Fiumarella. Dagli esami di laboratori interni effettuate su tale acqua e quella dello scarico è risultato che la perdita del tubo è acqua presumibilmente proveniente dalla rete idrica comunale, mentre lo scarico del depuratore risulta essere conforme ai requisiti di legge. L'ispezione sanitaria ha permesso di riscontrare che tutta la zona circostante è interessata da vegetazione spontanea e cumuli di rifiuti solidi urbani sotto il cavalcavia, abitat ideale per la proliferazione di ratti e insetti, pertanto è necessario effettuare opera di bonifica del sito oggetto dell'intervento e procedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi presenti.